Una nuova tragica storia di violenza sulle donne, vittimo a una trentenne residente nella provincia di Rimini. Arrestato il suo persecutore, un 41enne di Ancona, pluripregiudicato. La sera del 13 dicembre 2013, l'uomo le aveva offerto un passaggio per accompagnarla ad una serata con gli amici di lei. L'ha invece portata nel suo domicilio di Longiano, qui è iniziato l'incubo. Una ragazza ignara di quello che poi sarebbe accaduto nelle prossime ore, accompagnandosi con un quarantenne di Ancona, si portava presso l'abitazione di questi e veniva poi, dopo essere stata legata al letto, picchiata e sedata con della sostanza stupefacente, veniva più volte violentata. I fatti sono poi stati rapportati, più che denunciati, perché la denuncia non è stata fatta nella notte successiva ai carabini di Riccione, che hanno poi proceduto nella giornata di sabato, arrestando il quarantenne Anconetano e notificando di un ordine di custodia cautelare per violenza sessuale, sequestro di persone e spaccio di cocaina. Per evitare che potesse chiedere aiuto, il quarantunenne le aveva sottratto il cellulare, togliendovi carta SIM e batteria. L'incubo sembrava finito, ma non era così. Lui l'ha fatta salire in auto con la promessa di lasciarla andare. In realtà si è diretto verso una strada di campagna. La trentenne è scappata dalla vettura in corsa, ma è stata raggiunta dall'orco che l'ha violentata ancora una volta. Risalita a bordo dell'automobile, la ragazza è riuscita a riprendersi il cellulare, chiedendo l'aiuto di un amico, che è immediatamente allertato il 112. Accortosi di quanto stava accadendo e giunti a Riccione, l'aggressore ha fermato la macchina e scaraventato fuori la trentenne, rubandole inoltre il giubbotto con le chiavi di casa. La vittima è stata quindi soccorsa dai carabinieri, non voleva denunciare l'accaduto, per paura di ritorsioni da parte del suo aguzzino. Lui ha avuto qualche anno fa già delle condanne specifiche per violenza sessuale.